ciao a tutti mischielli e benvenuti sul server di moddato è meglio siamo in combinazione il signor deathmau e il signor zliner bello signori e signori benvenuti in questo nuovo episodio e andiamo a far vedere un attimo come ho risolto il problema dei canali nella peda allora come avete visto l'ultimo episodio non ci ho capito niente della prener g stick in pratica il p2p item non serviva a quello scopo e non so il perché ancora non ci sono arrivato perché l'impianto è uguale questo impianto non funziona come quello del che abbiamo nel super piatto allora cosa ho fatto ho messo qui all'interface se noi prendiamo la branch dell'appi e d'energistic 2 che è diversa la normale branch se clicchiamo su un blocco qualsiasi esatto ci fa vedere quello che vede l'interface in pratica in questo caso se noi clicchiamo su questo ovviamente vediamo solo la parte da qui in giù dell'impianto da qui invece vediamo tutto il resto quello che abbiamo a casa allora ho messo un p2p qui ho fatto uscire un cavo e l'ho mandato qua da qui praticamente facciamo uscire 32 livelli 32 p2p e se noi per esempio mettiamo un trovo una mela come vedete ci porta le mele tata perfetto in questo modo abbiamo risolto il problema dei canali ovviamente il cavo parte da lì si connette a questo m controller da questo m controller esce e va in p2p qui possiamo collegarne 32 e volendo si può fare un sistema aumentando questo numero di testa collegandoli diciamo in schiera e collegando dei p2p poi collegarli al nostro m controller dall'em controller poi uscire con i determinati cavi e praticamente noi abbiamo ho linkato praticamente questi due p2p qui a un solo p2p in sostanza black ti posso dire una cosa dimmi ci credi che l'ho capito solo adesso come hai fatto yeah easy 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 le mosquisi allora da qui sono uscito e sono andato praticamente di qua e ho portato l'appi di qua che poi ci serviranno i prossimi episodi si sprechi di cavi ma in questo episodio andremo a fare delle farm signori allora come vedete nell'inventario ho delle safarinette piene di mob blaze co eccetera eccetera due bolle le farm signori prendiamo dei tesseract che ho fatto ovviamente a telecamera spente perché sono riscate li conosciamo tutti abbiamo cinque e andiamo a piazzare l'auto spawner qui in mezzo e ci mettiamo dentro per esempio qua mettiamo i blades dai mettiamoci i blades ci mettiamo i blades facciamo non lo copiamo che tanto non ci interessa e sotto ci mettiamo un bel tessera che e poi setteremo qua tem blaze anzi lo metto sopra lo metto sopra così così non ci rompe le scatole se avverte che questi volano sti stronti si lo mette e lo mette a fianco bravo bravo genio ho fatto un canale di essenza che però se adesso attivo non mi spiace è vietato dai minori qui arriva l'essenza e arriva anche l'energia un attimo spawner gli stronti m k k z abbiamo il nostro dark glass tam tam e chiudiamo perfetto i nostri blaze arrivano qui qui perché c'è qua di lato è normale no perché così quando tu li guardi loro non ti vedono in sostanza anche il contino lo stesso si vedono no però vabbè è relativo e mi piaceva di più comunque qua arriveranno i nostri blaze road e da qua non escono non so perché anche se è stato già tutto forse il signor data ha staccato qualche cavo vediamo l'ho rimesso è rimesso allora perché non va abbiamo soltanto quello dell'energia per sbaglio ah ok vediamo un po' qui è stato giusto non lo so adesso ve lo dico sembra di sì allora vediamo estrai always e qua estrai always ok energia insert ok dovrebbe estrarre la nostra roba da qua ecco perché ok adesso dovrebbe stare dalla cesta le blaze road esattamente e però quello non funziona sta funzionando sta andando si sta riempiendo di essenza perché adesso l'essenza non andrà da nessuna parte in sostanza perché diciamo questo cavo quello che prende l'essenza tutti i grinder non è collegato a niente in sostanza quindi si riempirà e poi si bloccherà il macchinario quindi non fermare un tesseract che riceve i fluidi esatto se non hai il tankerone no sì ma è pieno faremo una zona tante nuova poi ok prendiamo degli auto spawner io ho una bella idea per i tanker sai sì sì ma io ho auto spawner ne avevo craftati tipo millemila non li trovo più io una gatta è laggo laghi dead eh le auto eh adesso non vediamo più di altro eh auto spawner ehm cosa ci manca la plastica non ci crederò mai ma io ho fatti un botto di auto spawner aspetta serve la plastic z te ne hai un po ma l'avevo fatta eh ah ma no ma sono un cazzone ce l'ho la plastica l'ho fatta lo scorso episodio mi sembra l'avevo fatto facciamo così facciamo le due stack e andiamo di qua più veloci della luce eh mi dispiace siamo più veloci e qui dentro ci buttiamo questa no plastic pelle che cazzo ho fatto cosa cazzo ho fatto ah ho finito l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho però non me la mette perché non me la mette qua vabbè 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 con la saga sarò ok è così così e così e devo mettere un altro pannello qui perché non bevamo abbastanza per che che fa auto e ci serve che ci serviva che ci mancava a questi machine frame e non abbiamo i cosi ma che palle e non abbiamo una del war per noi aver guardo ma dai 4 no ma ne abbiamo perché 4 auto guarda tieni tieni guarda tieni ah no è lo sugar che ci manca sugar free sugar cane io ne ho 7k tieni tieni eh passa male qua ma andato vado a prendere la roba che ho lasciato qua dentro che può servirci dove sei sotto? si si tranquillo grazie 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 ok auto spawner eh però tu questo non ce l'hai cos'è? che cos'è? ok sugar free bam tac tac questo non ce l'hai cos'è? cos'è? e nemmeno questo che non me li accumuli uno per tutti insieme grazie ok ok cos'è? cos'è z? cos'è che non ha? cos'è che non ho? ah questa non è tanolo per adesso ancora no non facciamo spoiler lasciamo stare gli spoiler ecco di cassa e quante velozze rodo abbiamo? eh? quante velozze rodo abbiamo? quante velozze rodo abbiamo? 364 in quanti minuti? in tre minuti? eh la senza siri una ne piene però mazza sempre comunque andiamo di qui e mettiamo l'auto spawner c'è un problema qua non c'è il tetto se c'è 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 eh sì pensavo che era la branch pensavo che era l'atomic quindi non vi preoccupate come si chiamerà questo episodio? questo episodio si chiamerà eh ci circolando farm no non lo so iniziamo alla merale parte 1 iniziamo alla merale parte 1 sì ok blizz in arrivo signori è per voi andiamo? va bene va bene e blizz che spawnerò fantastico eh non ho il glass però perchè qua c'è il glass normale aiaia stai calma signora stia calma ok ok non volate più basta guardate i blizz che arrivano vediamo se porta via la roba morite signori? potete morire? signorina? questi non si volano più degli altri eh? dai dai vieni vicino sì intanto potrebbero morire lo stesso però per esser sicuri l'energia gli arriva blizz arriva ed esce e finisce l'andercest yeah fantastico signori ok adesso avete anche il tetto eeeh e piove non è vero e qui mancano le conversion belle invece è in plena parte sto laggando no no vai tranquilli no dico 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 ehm aspetta eh mettiamo l'autodotter spawner qua quindi mettiamo troppo ok troppo l'abbente si se gli troppi le belt è così lui le piazza qua gli mettiamo dead chicken cosa mettiamo? chicken, cow, pig ma non fai tipo le farm multi multi animale, multi mob? no 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 singole singole guarda che belle le fiammelle che vengono attirate dai conversion belt ok ok poi altro ti do indietro le stone così mettiamo oven e qua e senza m va bene grazie 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 grazie